Buongiorno dolcezza, scusate per questo smalto orrendo ma non ho avuto modo di toglierlo prima di fare il video e oggi faccio questo video perché ultimamente molto ma molto ma molto spesso mi viene chiesta la solita cosa cioè quali materiali io utilizzo è un argomento che io ho affrontato sempre su questo canale youtube nel senso che vi faccio sempre vedere i miei video acquisti quindi non capisco neanche perché mi venga posta così spesso questa domanda ma evidentemente ci sono troppi video qua e la video acquisti un po' misti di vario materiale e non vengono guardati quindi preferisco fare un video unico dove vi parlo di tutte le piattine al sutash che utilizzo questo perché il 90% dei messaggi che ricevo soprattutto sulla mia pagina facebook sono ciao ti seguo su youtube vorrei sapere dove acquisti il materiale allora forse capisco che non si possono vedere tutti i video che una persona fa su youtube è impossibile però sono quasi certa che vengano guardati solo i miei tutorial quindi capisco perché mi vengano da una certa parte anche fatte queste domande da una certa parte non lo capisco perché ne parlo talmente spesso da un'altra lo capisco perché probabilmente vengono guardati solo i miei tutorial o magari i video creazioni che sono quelli che hanno un po' più visualizzazioni ovviamente non è che io mi arrabbio di questo so che alcuni video sono più visti di altri e quindi è normale che poi io riceva insomma queste domande ma siccome mi accade talmente spesso cioè praticamente quasi tutti i messaggi che io ricevo sulla mia pagina facebook riguardano il materiale che io utilizzo e dove acquistarlo ho deciso appunto per questo motivo di fare questo video sapete che io non sono una di quelle creatrici con creative con i segreti industriali non sono una di quelle che non vi risponde e non sono una di quelle che non vi dice dove acquisto le cose quindi per questo motivo vi faccio questo video piccola altra premessa io rispondo sempre ai messaggi che mi inviate sulla pagina scusate se a volte sono un po' più sintetica e vi scrivo direttamente i siti ma ricevo queste domande talmente tante volte che dopo un po' dico ma come non l'hanno ancora capito e scrivo direttamente i siti senza tanti convenevoli ma non voglio essere scortese perché poi me ne pento nel senso magari di dare queste risposte un po' sintetiche però capitemi che ricevo talmente tante domande tutte uguali che a volte faccio prima rispondere così in modo un po' sintetico però chi parla con me ogni tanto su facebook lo sa che io insomma sono sempre cerco sempre di essere il più gentile possibile vabbè vando alle ciance che ho già parlato anche troppo voglio parlarvi appunto dei fili di Sutash che io utilizzo e voglio partire dai miei esordi allora i negozi su cui io acquisto Sutash principalmente sono tre e partendo proprio dai miei esordi io ho iniziato la lavorazione con le piattine di bead pearless ho scoperto questo sito navigando su youtube perché io quando decido di intraprendere una tecnica nuova mi faccio delle scorpacciate immense di video su youtube perché ragazzi se youtube c'è e ci sono delle creative generose che cercano di condividere al massimo il proprio sapere su youtube perché non approfittarne la maggior parte delle informazioni le trovate pubbliche su youtube e io proprio agli esordi trovai non ricordo se era Margherita Fusco o un'altra ragazza insomma trovai il video di una ragazza che consigliava queste piattine di bead pearless e le andai ad acquistare ne ho ancora qua ve la faccio vedere una scatolona piena le utilizzo ancora e le considero delle ottime ottime piattine per iniziare a lavorare il Sutash vi voglio parlare di questi negozi in maniera molto stringata non voglio stare a descrivere per 800 ore i vari negozi vi dirò le cose principali che ci sono da sapere allora su bead pearless trovate tantissime categorie di piattine adesso vi faccio vedere le principali allora prima di tutto trovate le piattine da 2 mm e da 3 mm quelle che utilizzo io sono quelle da 3 mm però è questione di gusti personali non amo particolarmente lavorare con le piattine sottili e poco spesse ma come potrete vedere su instagram ad esempio le russe adorano questo tipo di piattine proprio sottili e con uno spessore minimo quindi è soltanto questione di gusti personali se voi chiedete a me le mie sono da 3 mm e le categorie principali che trovate su bead pearless sono il Sutash polyester cioè che sono piattine opache vedete che l'aspetto è proprio opaco non hanno la lucidità della piattina ma come vedete comunque hanno una consistenza molto buona e si lavorano benissimo l'altra categoria è Sutash rayon e sono piattine lucide come vedete c'è una bella differenza con le altre queste sono proprio lucide e scegliere l'una o l'altra è solo una questione di gusti poi c'è la categoria metallicum ovvero di tutte le piattine metallizzate la base della piattina è una piattina normale e poi ci sono come vedete le striature metallizzate di vari colori oro, argento, rame dipende insomma dalle colorazioni che voi andate ad acquistare anche queste ottime poi ci sono delle categorie che costano un pochino di più un pochino più lavorate ad esempio queste Sutash artistic dove ci sono queste piattine un po' più particolari che hanno sopra delle colorazioni come se fossero diciamo dipinte vediamo se le metto a fuoco ok vedete ad esempio questo questa colorazione sono molto belle e sono ancora un pochino più rigide delle rayon normali perché hanno sopra insomma un'altra lavorazione poi c'è anche la categoria ad esempio Sutash denim jeans dove trovate tutte le piattine appunto che richiamano il colore del jeans e che hanno varie lavorazioni ad esempio questa colorazione vi consiglio tutte queste categorie che sono quelle che io generalmente ho provato di più le ho già testate tutte mi piacciono tutte c'è una varietà di colori veramente immensa sul sito Be the Pearless e oltretutto è uno di quei pochi siti che settimanalmente vi offre delle promozioni quindi se vi iscrivete alla newsletter tutte le settimane vi arriverà un'email con la promozione è sponsor di vari gruppi facebook ad esempio Sutash Cafe quindi se vi iscrivete a quel gruppo avrete anche uno sconto di non ricordo cosa anzi lo ricordo ma non ve lo dico così vi andate a scrivere al gruppo avrete uno sconto in percentuale sui vostri acquisti quindi è un sito veramente ottimo c'è una buona comunicazione tra la venditrice e i clienti che è una cosa da non sottovalutare perché io ho avuto dei problemi in passato cioè no dei problemi volevo delle informazioni e sono riuscita a contattarla tranquillamente su facebook mi ha risposto subito anche sui gruppi vi risponde subito quindi veramente a livello di contatto col cliente 10 più è un sito spagnolo quindi vi arrivano in una settimana 10 giorni pagate una spedizione col corriere abbastanza alta sulle mi pare 8-9 euro se non avete sconti o se non acquistate tanto però insomma è compensato dal prezzo delle piattine che è abbastanza basso rispetto ad altri siti poi passiamo ad altro un altro sito di cui vi ho parlato ultimamente e su cui io acquisto spesso è hobby perline anche qui vedete la mia diciamo collezione stavo per dire il mio rifornimento di piattine di hobby perline hobby perline ha varie categorie di piattine ma non ha tanto rifornimento di colori sui colori è molto limitato la qualità di hobby perline è veramente ottima a mio avviso superiore alle piattine di bead perless ma hanno anche un prezzo superiore le categorie che io ho comprato di piattine fanno parte tutti della mega categoria made in italy quindi piattine made in italy e queste sono quelle normali su touch color sono da 3 mm e mezzo e danno veramente un'ottima ottima consistenza guardate quanto sono rigide per le principianti magari possono essere anche troppo rigide da lavorare non è detto è questione di pratica ed abitudine un'altra categoria dove io ho acquistato ad esempio sono le moonlight che fanno sempre parte delle made in italy e sono delle piattine più morbide e metallizzate ma con dei colori particolari faccio vedere questa ad esempio che non si vedrà mai nella vita che è un grigio con la metallizzatura viola magari se vi faccio un po' così riuscite a notarlo e anche queste non sono male non sono tra le mie preferite ma devo dire che come categoria è molto molto buona un'altra categoria veramente buona sempre dentro alla made in italy è il soutache brillante cioè soutache semplicemente metallizzato una base di colore normale con la metallizzatura sopra anche qui non c'è tanta scelta ma sono veramente ottime ottime una terza categoria che vi consiglio ci sono solo tre colori in questa categoria ed è il soutache metallico cioè sono queste piattine che proprio sono tutte metallizzate le faccio vedere eccole qua che costicchiano costicchiano abbastanza ma sono veramente buone che dirvi altro di hobby perline non fa tanto spesso sconti però se spendete mi pare più di 30 euro la spedizione 3 euro e 50 se ne spendete più di 60 la spedizione è gratuita quindi costa relativamente poco c'è poca scelta ma le piattine sono ottime e di una qualità fantastica i prezzi sono un po più alti terzo sito vi immaginerete tutti qual è ed è filincanto filincanto anche lui ci offre piattine di ottima qualità e sempre a un prezzo un pochino altino diciamo che più o meno i prezzi sono come quelli di hobby perline le categorie di piattine che vi consiglio sono quelle scusate se trema tutto sono quelle di alta qualità quindi le piattine ad esempio questa normale però dove c'è scritto alta qualità mi raccomando fateci caso e anche queste consistenza ottima e prezzo un pochino più alto insomma poi altra categoria che vi consiglio sono le sotash il sotash metal di filincanto dove potete trovare una abbastanza grande varietà di colori ad esempio questo è il marsala che è un rosso con il rame poi altre qualità altre categorie molto belle sono il sotash cotton e il sotash shabby ad esempio questo shabby iris è un rosa un po' spento come colore e hanno questa consistenza più morbida perché sono più morbide non sono rigide come le alte qualità però hanno questo aspetto appunto un po' cotonoso un po' pelosino veramente veramente bello che non si trova da altre parti e poi infine ci sono altre categorie come ad esempio la categoria di adel nella colorazione ad esempio questa rose gold veramente veramente belle che meritano su fili incanto gli sconti vengono fatti un pochino più spesso quindi magari fateci caso insomma andate a controllare la spedizione mi pare che anche quella per 60 euro sia gratuita ma non vorrei sbagliarmi che altro dirvi vi arrivano tutte in un sacchetto unico non classificate quindi se siete alle prime armi se non conoscete ancora le piattine di fili incanto e non sapete riconoscerle mi raccomando chiedete espressamente a loro di farvele arrivare con i nomi potete scriverlo nelle note oppure contattate loro privatamente perché io ho avuto difficoltà i primi tempi quando li acquistavo a separarle dividerle eccetera eccetera quindi siccome l'azienda stessa mi ha detto che è possibile richiedere questa cosa io vi consiglio di farlo assolutamente ok questi sono i tre negozi dove io acquisto principalmente su tash non sono gli unici al mondo a venderlo ci sono tantissimi altri negozi me ne potrei nominare tantissimi però diciamo che io sono abituata per il momento a lavorare solo con questi tre tipi di fili tre tipi insomma questi fili di queste tre aziende chiamiamole così è ovviamente ritorna tutto anche è riconducibile anche al mio gusto personale ovviamente c'è chi preferisce le piattine più sottili c'è chi preferisce le piattine più spesse se voi andate a vedere i video delle russe vedrete che usano delle piattine sicuramente da due millimetri e proprio sottili sottili quindi insomma poi con il tempo troverete il vostro modo di lavorare e capirete quali piattine fanno più comodo a voi quali piattine vi torna meglio utilizzare spero di essere stata abbastanza chiara di aver fatto un video riassuntivo verrà guardato questo video almeno mi eviterò 800 messaggi sempre uguali sulla pagina ma vabbè sapete che io comunque continuerò a rispondervi però insomma ho fatto questo video appunto riassuntivo per magari agevolarli perché capisco che i video acquisti spesso sono misti su tash e altre cose e magari non non vengono guardati quindi banda alle ciance vi saluto e al prossimo video ciao